Sono la presentante con uno dei miei studenti che ha detto che questo punto ha trovato un dominamento che ha detto di un canto. Allora, sulla democrazia e l'intervistica, ma è tanto che ce ne è anche stata poca. Adesso non c'è. Stamattina, qualcuno mi pare, la insegnante di scuola dell'ultima, anziana, la statrice ha detto che non è male possibile dei credi legati, l'indicato in particolare sono brutti le scuole credi legati. E quando invece allora dice, la dici in modo molto brutto, visto che quella legge ha rivolto la nota di addirittura di scuola sulla scuola. Cioè, scuola non per la prima volta, ma per l'ultima volta addirittura. E' la storia di Coristano, sletturata dell'intervistica confessionale, con la famiglia. Dei scuola in grattura di tutte le categorie per la democrazia scolastica. Quindi invece subì, subì questa legge, però con, vabbè, l'impotente, si chiamava così, che negli allora partiti, se dice che degli sprogressi istituzionalici, affidò al ministro il compito con l'Elegan, con delle diparte dei credi, per attuare la legge. Inoltre, inoltre, con uno, mal spazi, ma proprio mal spazi, inoltre, infatti, inoltre, si chiamava mal spazi. Cos'è si portava a fare? Allora, diciamo subito, come coordinamento del Settuto Democratico, che la legge è, cioè, ma, ad esempio, la cosa che non ha capito, della democrazia scolastica. Perché immediatamente sulla democrazia scolastica, sugli organi colmigiani, cioè sugli organi di partecipazione al governo del suo ruolo, dalla terra, noi non avevamo chiesto allora di andare lì a dire, noi spediziamo che il mondo sia un buono, ma anche se lo dite che esce, noi c'eravamo in conclusione di potere, parlavamo anche di questi suoi destini, allora, e addirittura, quando dicevano queste cose, le dicevano, ah, il mondo per conto della componente, lo sede che non si vede come un dono, davvero il mondo, una grande bella, per governare l'oro, il lavatore del suo ruolo, la storia di lavatore, una cosa incredibile, una cosa incredibile. E allora questi organi, come si dà, nato, con l'accentazione delle famose circolari del ministro, che vivono nelle prezzi di allora, le loro insegnanti, come lì, mentre si sapeva come la circolari, non può annullare la legge. La circolari del ministro non è che, addirittura adesso la legge, la comunicazione dei dirigenti scolari, che fanno le circolari, non sanno in modo ignorante, perché un dirigente non lo parlo a una circolari, perché non è il mesmo massimo, lo parlo a una comunicazione, alle competenze della scuola. Dittegli a noi, le vostre insegnanti, sanno in grado, quando scrivono il circolari, come uno non lo so, ma qual è il sacco di circolari, ma questo non deve fare, tutti dei profumi, tutte delle carose. Allora, a questo punto qui, è chiaro che, in quel momento, le circolari sono semplici da una parte, e la relazione, qual è il violenza, degli obiettivi discolari, che ne scala da meccanismi di ricerca di controllo della circolari. E' colpa anche di voi, come faccio loro, sono un segnitore, che vuole mandare per scassare tutto, non noi ne ricordi veramente, ma poi ci furono anche quelli che, è l'attività che si fa, però, da qui a dire che gli organi collegiali, quindi cancelliamo, e quindi cancelliamo la democrazia partecipativa, se ne cresce, non possiamo dire che gli organi no, non funzionano, non funziona, non funziona, non funziona, non funziona, più o meno, più o meno, questo campo funziona un più o meno, il valore del parabetto, ok? Allora, fatta questa presentazione, c'è da dire, c'è da aggiungere che c'è stata la legge sull'autonomia, ma la legge sull'autonomia, ma la scuola della dirigente, questa è la scuola, la scuola, ma non ce l'ho con i dirigenti scolastici, ce l'ho con i suoi, con i nostri superiori geratici, perché fare la scuola della dirigente è equivale a farci, non cambiare niente, la scuola del ministro, che si è avanzata la scuola del ministro, perché il dirigente, firma con il suo superiore serato, che è il direttore di San Angus, basta, corretto, un contratto, all'ultima che mi fa, è vicente per fare, quindi la scala serattica della scuola, diciamo, che partiva dalla base, il mio al ministro, si è rafforzata, perché il dirigente risponde solo al suo superiore direttore, il suo superiore direttore risponde al ministro, di fatto, la centralità della scuola del ministro è tutta lì, perché in effetti loro hanno, in modo molto abile, molto abile, e dicono tutti i poteri, tutti i poteri, tutti i poteri, tutti i gialli, i neri, i cittadini, non gli interessa, hanno fatto sì che non ci fosse, nella scuola del momento partecipativo, perché il governo democratico della scuola fa paura, perché se io faccio il governo democratico della scuola, il voto dei cittadini democraticamente educati e istruiti, io ho i famosi cittadini e non i sudditi, quindi il cittadino di portando allo stato dei sudditi in Italia, cioè i nostri figli non capiscono una manca ormai, i ragazzi che escono della scuola sono dei più felici, e non solo perché non trovano un lavoro, è evitata a quelli che usciranno tra qualche anno dalla scuola della scuola dei cittadini, con questa scuola della scuola dei cittadini, andata da un'attività, ma per favore, andata da un'attività, se non una scuola dove lo chiamano io per poco, qui è una scuola in Italia, una scuola dove con istruzione di metà merce, quello che non ti do io, scuola, ma te lo compri, te lo compri, la istruzione è una merce, ecco perché adesso hanno fatto quella porcata che andrà sicuramente in commissione del Senato, e quindi stiamo attenti tutti per favore, non abbassiamo affatto perché non abbiamo ancora vinto, riprenderanno la extra 253 che adesso si chiama 15542, perché la camera si passa da sua parte, c'è già da aprire il solito, perché anche questo non è più solo aprire, aprire il solito, e quindi se portano a terra quel processo, quel disegno, ne ho detto, non solo la cancellazione di un'attività a una volta, che non ci sono più, sta da segnare che il consiglio dell'autonomia, della scuola dell'autonomia, diventa un mezzo consiglio di amministrazione, e soprattutto la società di casa, andata a leggere quella porcata, hanno toglie rappresentanti di classe, e nel momento in cui non toglie rappresentanti di classe, è benissimo, ha il venditore delle studenti di fare i loro compitati, e noi stavamo benissimo, che con un contenitore del cammino è la protesta, contro la lavorazione, contro le azioni, e quindi i due disegni sono stati i comuni dati del vendito, non i conoscenzi, e il comitato del vendito è un mezzo solo perché serve un rappresentante di classe, e gli studenti togono le assemure, e non solo le assemure, poi quando sono loro in base, sono stati sempre in base, hanno provocato il mondo, perché se andate a svegli a pensare, io stavo, sì, sbarro un po', ma vado a una scuola che ho reso poco, ma non siamo in carota, ma come tu vai a votare la scuola che tu hai poverito, e poi decidi qual è la scuola più bella del mondo, hanno sbagliato un po' la scuola dei quartieri spagnoli, che sarà sicuramente più speciale della scuola di Così, oppure se ne vanno a Genova, la scuola di Cacnelleno sarà molto più uscita della scuola del Cess, perché è un quartiere popolare, da Grosnelli, di Palermo, io faccio a tutto, a tutte le stesse prove, che hanno capito a tutte le stesse prove, e decido che anche quelli che capiscono poco, se continuano, il sostegno, il recupero, hanno tolto tutto, 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 gli mando bene che sono delle bestie, perché la scuola non ce la fa più, e dicendo che quella è una scuola più garanziale, e qui riprendono la scuola più brava, qui spero sempre di più una scuola di medici, ma guarda, questa cosa è impressionante, 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 quindi tutto questo è, e poi fa un giusto sostanziale, praticamente, se ho un fuore, la scuola sostanziale, ricordate l'unità del Sistema Nazionale di Instruzione e Informazione del Paese, nel ruolo del sistema, questi sono gli stati, la scuola fine, si rompe l'unità del Sistema Nazionale di Informazione e Instruzione, e quindi io posso avere la scuola patana, la scuola turca, la scuola afroano, la scuola tedesina, ma sicuramente posso avere la scuola tedesina, la scuola povera, e questo si tratta, con buona parte dell'articolo, sulle delle attività, l'ultima cosa velocissima, l'insegnamento di l'indicione del Vattore, ragazzi, voglio un'unità di 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 un'unità, di un'unità 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 di che si trovano insegnabili da forza, gli amici. Ancora una volta che ci riscaldiamo, è un problema di risparmiare un viaggio dietro, non a meno questo, in monta porca, la questione deve sapere qual è che non ne sbagliamo più, vogliamo cominciare a parlare, a riparlare del supermerge, del supermerge, del supermerge, del supermerge, del supermerge. Qui se non ci troviamo, fate scontrollare, non facciate niente di niente.